Rapprendi mano a mano è una disciplina che oltre all'abilità tecnica e dalla correttezza stilistica richiede una notevole quantità di forza fisica. L'impegno fisico della maggiore che ha il ruolo del porteur si configura in una sorta di supporto, quasi un attrezzo d'acciaio sul quale la sorella scarica tutto il proprio peso durante le sue evoluzioni acrobatiche. Grazie